Nuova segreteria confederale per la CGL di Galtanissetta che questa mattina si è riunita presso la Camera del Lavoro di Gela alla presenza del segretario regionale CGL Sicilia Alfio Mannino. Il nuovo gruppo che affiancherà la segretaria generale CGL di Galtanissetta Rosanna Moncada per i prossimi quattro anni è composto da Francesca Nigro, Rosario Catalano, Nuccio Corallo e Roberto Ferreri. Per tutti si tratta di nuovi ingressi in segreteria confederale anche se ciascuno di loro possiede un'importante esperienza sindacale alle spalle fondamentale in vista dell'importante lavoro che la CGL dovrà affrontare nel territorio. Diverse le problematiche affrontate nel corso dell'assemblea che hanno evidenziato la necessità di riportare in piazza una serie di iniziative e avviare una massiccia fase di mobilitazione per far sì che si possa realizzare quel cambio di rotta nelle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali necessarie per il paese. La priorità è quella di costruire, mettere in gambo una idea di sviluppo e di crescita di questa nostra regione attorno a questa idea di sviluppo e di crescita e coagulare il più ampio consenso possibile soprattutto tra i lavoratori e lavoratrici per mettere in campo quel movimento di cambiamento della nostra regione. Noi abbiamo bisogno di un cambiamento profondo nelle sue politiche economiche e sociali, abbiamo bisogno del protagonismo dei ragazzi e della ragazza siciliana perché una delle questioni che più ci preoccupa è il fatto che 20.000 ragazze e ragazzi ogni anno lasciano questa regione e questo significa che noi perdiamo le energie, le forze più fresche e se non consentiamo invece a questi ragazzi e a questa ragazza di coltivare qui le loro speranze, di costruire qui il loro futuro rischiamo davvero un deserto economico e sociale che non è accettabile. Intanto sabato 15 il sindacato scende in piazza a Caltanissetta per dire no all'autonomia differenziata, una manifestazione necessaria secondo i vertici CGL, considerato anche il grave momento di crisi sociale e economica che sta attraversando il paese. Quella di sabato è una mobilitazione importante dai contenuti fondamentali da portare in piazza da veicolare con le persone, i cittadini, parteciperanno in tantissimi oltre ai soggetti promotori che sono la CGL, la UIL, la Lega Coop, l'AMPI, l'ARCI e abbiamo coinvolto la rete degli studenti, tante associazioni di volontariato e tutti in piazza per portare avanti una mobilitazione dei contenuti importantissimi. Si tratta del destino dei nostri territori, non solo del nostro mezzogiorno, ma delle aree interne del nostro mezzogiorno. Caltanissetta è stata scelta appositamente come piazza regionale e avrà l'opportunità di dire a gran voce, di dare, di restituire quel potere dei cittadini di manifestare la propria contrarietà a una riforma che non guarda assolutamente allo sviluppo del paese. Riteniamo che questa debba essere una lotta oltre che istituzionale, sociale, culturale perché rischiamo lo spezzettamento, la frantumazione dei nostri territori dal punto di vista culturale. Oltre al fatto che andranno a essere pregiudicati valori, diritti indivisibili e importanti, inviolabili, che sono sanciti dalla nostra Costituzione, che sono la salute, la scuola, la sicurezza del lavoro, è inconcepibile che noi possiamo pensare ancora, condividere il fatto che possano esserci non solo due tali diverse, ma territori e regioni diverse tra di loro che divideranno ancora di più i divari sociali e territoriali del nostro paese.